La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino, diamo un'occhiata alla prima pagina, il titolo di apertura Trump, Biden e testa a testa, la Casa Bianca 2020 boom di affluenza la più alta da 100 anni, di lato Campania, i ristoranti e i bar verso lo stop il DPCM, coprifuoco dalle 22 per tutti, Napoli sull'orlo della zona arancione, Piemonte e Lombardia in lockdown, poi le interviste, Blangiardo dell'Istat, il governo eviti la rottura della solidarietà, le disuguaglianze, dice, stanno aumentando a vista d'occhio, Bellinger di Capodimondo, è meglio tenere aperte le librerie dei nostri musei, con le sale chiuse i quadri diventano digitali. Di taglio basso il flop degli 007, attentatore non pericoloso, Vienna, l'attacco dell'Isis spianificato a luglio in un vertice nei Balcani, questa era la prima pagina del mattino, andiamo a vedere in primo piano il nuovo DPCM, coprifuoco alle 22 e nelle aree a rischio è vietato spostarsi regioni all'attacco, vogliamo norme omogenee, ma il governo tira dritto e divide il paese in tre. Mattarella vede Casellati e Fico, dialogo con l'opposizione, il Parlamento sia centrale, questo l'invito, la spunta sul coprifuoco alle 22, ma è costretto ad organizzare con il ministro Speranza e il comitato tecnico-scientifico un meccanismo di lockdown soft che toglie le castagne dal fuoco ai furbissimi presidenti di regione che comunque chiudono protestando con lo stesso argomento usato all'inizio. Meglio chiudere tutto che solo la Lombardia, meglio misure omogenee per non dover magari spiegare perché noi sì e altri no. Il parto del terzo DPCM è stato quanto mai complicato, un susseguirsi di riunioni e incontri a distanza tra governo e regioni, tra governo e CTS e poi in serata con il testo davanti tra presidenti di regione e su un'altra piattaforma tra i componenti del comitato tecnico-scientifico. Lasciamo questa pagina, rimaniamo sempre sul mattino, andiamo a vedere qui in Campania com'è la situazione. Ristoranti e bar rischiano il blocco totale, la regione è verso la zona arancione con lo stop alle attività di ristorazione, libera circolazione nel proprio comune, ma non si potrà uscire dai suoi confini. Per un intero pomeriggio è un alternarsi di numeri e tabelle con la campania che balla tra la zona arancione e quella verde. Non è una cosa da poco perché a finire nella zona rossa come Lombardia e Piemonte si piomba in un lockdown simile a quello di marzo. Nell'arancione si chiudono bar e ristoranti, mentre nella verde rimangono più libertà. Con Vincenzo De Luca, che non si fa crucio del nuovo DPCM di Giuseppe Conte, previsto e nottata dopo una serie interminabile di confronti in conferenza a Stato-Regioni perché l'importante è una cornice nazionale di regole senza lasciare l'onere delle decisioni ai governatori. Poi solo oggi a decreto firmato e in vigore da domani si capirà se applicare o no norme più restrittive che rimangono potere delle regioni. Andiamo avanti sempre sul mattino. Con quello che è successo a Vienna, il flop degli 007 austriaci. Il terrorista era già noto, il jihadista aveva subito una condanna per terrorismo perché arruolato a Daesh. Il ventenne, scarcerato con una legge speciale, aveva tentato di andare in Siria a combattere di origini macedoni, già segnalato all'intelligence austriaca su Instagram. La foto col fucile era armato fino ai denti ed era ben noto alla polizia per precedenti reati, ma qualcosa è andato certamente sorto. Se lunedì sera qui è riuscito a infilarsi nelle maglie della giustizia a perpetrare una strage senza precedenti a Vienna. Addosso, come reso noto dal ministro degli interni, aveva un macete e una cintura esplosiva risultata però finta. Nel frattempo l'ISIS, secondo quanto annunciato dalla direttrice del sito USA, ha rivendicato l'attacco definendolo un soldato del califato. Con questa pagina lasciamo il mattino e ci spostiamo sulla prima pagina della città. Il titolo di apertura, il virus invade Salerno, arriva l'esercito. In soli sette giorni, 2.500 positivi, in tutta la provincia, postazioni dei medici militari nel capoluogo. Costiera e battipaglia, l'ASL affida a un privato il compito di processare mille tamponi al giorno, pioggia di milioni sul ruggi. Centropagina, nuovo DPCM, stangate e ristori, signori, è l'ora di chiudere. Sempre sul centropagina, andiamo adottati l'ordinanza, test negativo per rientrare, lo ha deciso il sindaco. Nocera inferiore, avvocatessi in quarantena, stop, tribunale. Di lato, assessore col Covid, variante isolato, Valle dell'Irno, medico ricoverato, esami a 100 pazienti, poi l'allarme, la vigilessa infetta, in ansia 8 colleghi. A Bellizzi, direttore e dirigenti, truffavano la banca, scattano 9 arresti. A Battipaglia, coltellate al Ferrari e Stivanta sui social, fermato un minore. Cava dei Tirreni, estorsione e usura, nei guai i ragazzi del boss Dante Zullo. Nocera inferiore, abusi su tre ragazzi, trentenne di Siano, va subito a processo. Di taglio basso, i Granata, sulla linea Juventus, tutto subiudice, salernitana, in attesa del giudice sportivo. E infine, serie D, la Gelbison è un focolaio, il torneo va sospeso. Lasciamo la città e diamo un'occhiata alla prima pagina di Cronache. L'apertura Conte ha firmato il decreto, parte da domani. Campania chiudono bar e ristoranti, salvi parrucchieri e barbieri. La nostra regione, nella seconda fascia, quella arancione, aumentano le restrizioni, mobilità fino alle ore 22. Andiamo sul centro pagina. Il direttore truffava la sua banca, la biper di Bellizia, arrestato con altri due dipendenti. 90 agli indagati predisponevano falsi carteggi per finanziamenti a disoccupati e senza fissa dimora. Di lato, Salerno, dipendente del cimitero, intasco ai soldi per un loculo, condannato il comune. Poi l'intervista a Fasano, De Luca dice fa un passo indietro. Centro pagina, Ruggi, tanatologia a rischio, sindacati sul piede di guerra, imballo la sicurezza della struttura. Di taglio basso, oggi avrebbe compiuto cento anni quel monumento ai caduti distrutto nel 1970. E infine Cava dei Tirreni, un flash mob in difesa dell'ospedale. Lasciamo cronache e guardiamo cronache del mezzogiorno. L'apertura al virus non fa né caldo né freddo del ruolo della temperatura e dell'umidità nella diffusione del coronavirus. Questo è lo studio, lo dice uno studio. Non solo, vi sono ben sette forme di malattia che modificano il sistema immunitario. Centro pagina, il decreto, pronti i ristori per il nuovo DPCM di taglio basso. Movimento 5 Stelle, gli iscritti non decidono più. Altra importante novità riguarda un passaggio che elimina Russo, la modifica dello statuto alla Camera che rivoluziona le regole interne. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, diamo la linea alla regia. Rieccoci tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. Il titolo di apertura, contagi raddoppiati ospedali K.O. Sono 5.750 salernitani malati, dinanzi ai pronto soccorso tornano le file di ambulanze. Assistenza al collasso, Campolongo offre 67 posti Covid, a Corbara muore un sessantenne sindaco. In lacrime, di lato la cultura, fermano i nostri musei, ci spostiamo sui social. Centro pagina, serie B, salernitana subiudice così salta il primo posto, forfere già nel giudice prende tempo. Sempre su centro pagina, la cronaca, prestiti facili dalla banca, la maxitruffa del direttore, fondi elargiti e mai restituiti, finivano in tasca al manager e a due funzionari, scandalo alla filiale di Bellizzi, nove arresti e 90 indagati. Sempre su centro pagina, la violenza, coltellate al compagno di classe, arrestato sedicenne di Eboli, lagguato a Battipaglia. Di lato le restrizioni, il mini lockdown dei sindaci, stretti a Pagani, Fisciano e nel Cilento. Poi la scuola, mobilità abietata tra le regioni, noi professori bloccati al nord. Questa era la prima pagina del mattino di Salerno, andiamo a Nucera Inferiore. Beni confiscati ai boss, ora si fa sul serio, sopra il luogo. Di centore torquato, nei cantieri di case e garagi, il procuratore. Alcuni non erano stati tolti davvero ai proprietari. L'alloggio di Pepe ospiterà un centro per famiglie bisognose. Quello di Toro Guaglione sarà diviso in tre appartamenti. A Cava, ambiente violato, rifiuti tossici nel terreno, denunciato. Sempre a Cava dei Tirreni, in piazza per l'ospedale, lite, servalli, opposizione. Ancora Cava dei Tirreni, pranzi e acquisti a sbafo, a processo il clan Zullo. Ad Angri, caos sosta, le strisce bianche diventano blu. Pagani, primo consiglio dell'era de Prisco, palladino in pol per la presidenza. E ha scafati, riaperto il mercato, sgravi ai commercianti. Lasciamo questa pagina, andiamo a Eboli. Covid, cresce la paura, chiuso il municipio. Studio medico a rischio, contagi a quota 147. L'allarme per un centro di riabilitazione sgroia, prendo decisioni impopolari per la salute dei cittadini. A Battipaglia, troppi alberi abbattuti, legambiente all'attacco. Perdi fumo, sicurezze e rifiuti, ecco 63 telecamere. Torniamo a Battipaglia, 17 anni accoltellato, arrestato il compagno. A Pisciotta, piano urbanistico, battuta d'arresto la provincia Bacchetta, improcedibile. E Montesano sulla Marcellana, stazione elettrica terna, il comune vince al TAR. Lasciamo il mattino e diamo un'occhiata a cronache. In primo piano, nuovi fondi per le scuole salernitane. Serviranno agli istituti scolastici per l'acquisto di ulteriori dispositivi digitali e strumenti per le connessioni. In città, a Salerno, sono 30 gli istituti che hanno beneficiato dei contributi stanziati dall'Azzolina. Andiamo avanti, sempre su cronache. L'allarme di Coldiretti, Salerno. Florivivaismo in profonda crisi. Tutti i settori stanno risentendo del forte impatto della pandemia. Agricoltura in affanno. Vendite di prodotti freschi dall'ortofrutta al lattiero caseario ridotte. a pesare anche la chiusura delle menze scolastiche. Difficoltà con l'export. E andiamo a Montesano sulla Marcellana. Il TAR rigetta il ricorso della SBS Power contro la decadenza dell'autorizzazione alla costruzione di un parco eolico richiesta dal comune e decretata dalla regione Campania. A Castellabate, Campo Carrano, candidato al bando Sport e Periferie 2020. Adeguato il progetto esecutivo da 690 mila euro. A per di fumo, sicurezza, 63 telecamere controllano il territorio comunale. L'impianto ad alta tecnologia è stato attivato in pieno rispetto della privacy. Agropoli, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. E infine, furto di binari lungo la Sicignano Lago Negro tra Auletta e Pertosa. I militari hanno trovato anche numerosi attrezzi usati per riuscire a prelevare binari e traversine a portarle via. Ennesimo danno perpetrato lungo la linea ferrata sospesa da oltre 30 anni. Un furto di binari tra le stazioni di Auletta e Pertosa, lungo la Sicignano Lago Negro. L'ammanco è avvenuto circa due settimane. È stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidate dal capitano Paolo Cristinziano, che hanno immediatamente avviato una serie di indagini serrate e potrebbero esserci sviluppi positivi a breve termine. E termina qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Grazie a tutti.